Rapinavano le coppiette che si appartavano sul lungomare di Mili Marina con i volti coperti da fular e una pistola giocattolo. La polizia li ha arrestati alle prime ore di questa mattina. Si tratta di una banda di giovanissimi, tra loro anche una ragazza non ancora maggiorenne. Dovranno rispondere di una rapina tentata e una che ha fruttato appena 10 euro Antonino Billet, 19 anni, pregiudicato, Salvatore Magazzù, 18 anni, Luigi Foti, 23 anni, pregiudicato, Gian Domenico Pellegrino, 20 anni e la ragazza non ancora 18enne, tutti di Messina. Sono state le vittime a chiedere aiuto alla polizia, ad agire direttamente minacciando le coppie erano in due, avvicinando le auto, uno travisato da fular, l'altro da passamontagna. Sono stati bloccati dai poliziotti poco dopo le telefonate di avvertimento alla polizia mentre si trovavano sulla strada statale 114 a bordo di un ciclomotore. Vano il tentativo di liberarsi dalla pistola giocattolo rimanendo inosservati. Gli agenti li hanno trovati ancora in possesso di quanto utilizzato per travisarsi. Poco dopo sono stati fermati anche gli altri tre giovani che si trovavano a bordo di un'auto nei pressi del tratto di spiaggia sul quale erano state commesse le rapine.